Buongiorno FTO Online, ancora un pesante calo per le borsa, abbiamo infatti il Futsimib che lascia sul terreno il 5% circa, siamo intorno ai 17 mila punti, i minimi toccati in assoluta di oggi confermano il rischio di una ulteriore accelerazione ribassista nel corso delle prossime giornate. Negativo anche l'andamento del DAX, vedete si è lasciato alle spalle un ampio gap discendente, dopo aver violato questa mattina in avvio il supporto intorno ai 10.500 punti che conteneva la fase ribassista ormai da circa 3 sedute. Andiamo a questo punto a guardare in dettaglio l'andamento degli indici di cui abbiamo parlato, iniziamo con il nostro Futsimib, abbiamo detto che in questo momento siamo intorno ai 17 mila punti, toccato anche un minimo leggermente inferiore a questi livelli, le quotazioni attuali sono attualmente in corrispondenza dell'aereo supporto data dalla linea di tendenza che sale dai minimi della metà del 2012. Se dovesse venire confermata la verazione della linea che passa intorno ai 17.500, 17.550 anche in chiusura di seduta, è evidente che ci sarebbe un ulteriore deterioramento del quadro grafico. Il rischio in questo caso sarebbe quello del proseguimento della discesa con obiettivi che sono fino al 78,6% di rifiacciamento del rialzo dai minimi di metà del 2012. Vedete più o meno coincidente questo livello di supporto con i minimi del giugno del 2016, intorno ai 15.080 punti. C'è un'area di supporto intermedia importante che è questa di intorno ai 16.000 punti, dove si sono disegnati i minimi di agosto, settembre e novembre del 2016. Quindi primo supporto in area 16.000, successivamente il rischio di discesa è fino a 15.100. Solo se dovessimo vedere i prezzi che rientrano al di sopra di questa trendline, quindi sopra ai 17.550 e 17.600, potremmo sperare di avere una fase di rimbalzo più consistente. Negativo anche l'andamento del DAX, abbiamo appena detto che in questo momento lo troviamo attorno ai 9.860 punti, quindi vedete la quotazione attuale praticamente si posiziona in quest'area. Se andiamo a guardare lo storico dell'indice ci accorgiamo che siamo ormai arrivati in termini di rifiacciamenti dai minimi del 2009 sul 38,2% del rialzo degli ultimi 11 anni circa. Se dovesse cedere anche il sostegno dei 9.800 punti, sarebbe probabile assistere al proseguimento della discesa con target sul minimo del 2016, che coincide con il 50% di rifiacciamento che si posiziona intorno agli 8.700 punti. Anche in questo caso è stata violata la linea di tendenza che sale dai minimi del 2011, è stata violata con questo evidente gap ribassista, solo se dovesse tornare di sopra la linea che passa a 11.200, ci sarebbe un segnale di ripresa. Primo livello di resistenza è il gap che si è aperto questa mattina in avvio intorno ai 10.410-420 punti, quindi sopra quei livelli avremo una prima indicazione positiva. Poi sopra area 11.000 avverrebbe confermata la possibilità di testare dal basso la linea di tendenza e poi eventualmente di ricoprire il gap ribassista del 9 marzo. Mal è anche l'S&P 500, abbiamo visto nella seduta ieri un ulteriore profondo calo, chiusura a 2.740 circa e se andiamo a prendere l'ultima fase di alzista, quella che era partita dai minimi del dicembre 2018 e calcoliamo i rifiacciamenti appunto per questo rialzo, vedete che nella seduta ieri dopo tre giorni in cui i prezzi cercavano di, dopo due sedute in cui i prezzi cercavano di mantenersi al di sopra di questo importante riferimento grafico, nella seduta ieri invece ne sono scesi a di sotto anche se per adesso solo marginalmente, anche in chiusura di giornata. Siamo arrivati sui minimi del marzo dello scorso anno, il rischio è che a questo punto se dovesse cedere anche il supporto di area 2.720, ci si possa aspettare un ulteriore calo verso 2.575 punti. Per tornare positivo in questo caso l'indice dovrebbe prima superare a 2.800, poi salire al di sopra del massimo del 10 marzo a 2.882, in quel caso ci sarebbero alcuni gap da ricoprire e potrebbe iniziare un imbalzo un pochino più sostenuto rispetto a quello che abbiamo visto due giorni fa. Diamo uno sguardo rapidamente anche a alcuni titoli che sono quelli più rappresentativi del mercato americano, iniziamo con Apple, se andiamo a guardare il rialzo che c'è stato dall'inizio del 2019, quindi più o meno prendiamo come riferimento lo stesso che abbiamo utilizzato per l'S&P 500, vedete in questo caso siamo arrivati a ritracciare il 38,2% del movimento precedente, quindi siamo ancora ampiamente nell'ambito di una fase correttiva, quello che preoccupa casomai è il fatto che il rimbalzo che abbiamo visto dal 28 febbraio si sia limitato a sua volta a ritracciare solo il 61,8% della discesa precedente, quindi c'è stato questo primo movimento ribassista seguito da una fase di rimbalzo che però non ha superato il 68% di ritracciamento, a questo punto è elevato il rischio che si sviluppi un nuovo movimento di discesa con obiettivo intorno ai 235 dollari che sono il 50% di tracement del rialzo dai minimi di inizio del 2019, quindi attenzione perché anche nel caso di Apple la discesa potrebbe non essere terminata, anzi si rischia di andare a fare nuovi minimi. Prendiamo un altro titolo di riferimento che può essere Microsoft, che ha un andamento molto simile a quello di Apple, anche in questo caso se andiamo a guardare dai minimi di fine 2018, il ritracciamento è stato nell'ordine del 38,2%, quindi andamento molto simile, anche qui c'è il rischio tuttavia che visto il comportamento della reazione che c'è stata ad inizio del mese di marzo, che si è limitata al 61,8% di ritracciamento del ribasso iniziale, c'è un rischio elevato che la discesa prosegua per arrivare almeno intorno ai 142 dollari dove troviamo anche la media esponenziale a 300 sedute. E guardiamo infine anche Tesla che è andato incontro a una fase calante molto accentuata, la flessione era già iniziata con la prima parte del mese febbraio, successivamente il ribasso ha interessato la media mobile esponenziale a 100 giorni, quindi è arrivata in prossimità di questa, che in termini di rifiacciamenti di Fibonacci coincide più o meno con il 50% di tracement. Per adesso il titolo aveva cercato nelle ultime sedute di mettere a segno un rimbalzo, vedete si erano disegnati questi elementi tipici di un tentativo di rimbalzo, un martello invertito e un martello, però fino a che rimaneremo al distotto di area 6,68 dollari, quindi il massimo di due giorni fa, la comparsa di queste candele, se vogliamo ben auguranti in un'ottica di un tentativo di rimbalzo, non comporterà un'inversione di sentiment, solo sopra area 6,68, o meglio è aperto il 9 di marzo, solo sopra area 6,74, avremo una prospettiva concreta di reazione un pochino più consistente, magari un ritorno intorno agli 800 dollari. Attenzione in caso di scese sotto 5,74, 5,75, perché verrebbe in quel caso confermata l'intonazione negativa che abbiamo visto nelle ultime settimane. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.